La Porsche nata inizialmente a Gmund in Austria si era trasferita nel 1952 a Zuffenhausen presso Stoccarda mantenendo una lavorazione artigianale molto curata nei minimi particolari. A prendere le redini dell'azienda dopo la morte del vecchio Ferdinand era stato il figlio Ferri mentre Ferdinand Alexander detto Buzzi, nipote del fondatore e figlio dello stesso Ferri era stato incaricato di dirigere il centro stile. A loro si era giunto anche Ferdinand Pieck, un altro nipote di Ferdinand che poi sarebbe passato all'Audi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS